La Croce Rossa al liceo Imbriani di Avellino per parlare di sicurezza stradale con la campagna Hai una sola vita, prenditene cura. Secondo dati forniti da ACI ed Istat, l'Italia è ancora a fanalino di coda tra i 28 paesi europei per il numero di vittime da incidenti stradali. Più di 3.000 soltanto nel 2014 con il 56% di mortalità contro una media europea del 51,4. Una cifra allarmante, ancora di più se si considera che il volante troppo spesso miete vittime giovani che hanno fatto uso di stupefacenti o di alcol. Sebbene si sia registrato un calo del 3,7% rispetto al 2013, molto resta da fare ed una delle strade più importanti rimane quella della sensibilizzazione al rispetto delle regole. Noi come Croce Rossa ci stiamo impegnando al massimo per sensibilizzare proprio i ragazzi, specialmente i ragazzi di fasce d'età dai 14 ai 16, 17 anni. Cerchiamo anche di promuovere un corretto stile di guida, promuovere delle regole specifiche proprio per migliorare questa statistica e cercare comunque di riallinearci al range degli altri paesi europei. Non bisogna assolutamente mettersi alla guida quando si è bevuto. Magari accordarsi con un amico e fare a turno, una volta beve uno, una volta beve l'altro.